Sì, pensavo la volontà era di chiudere la carriera a Sanremo, di continuare questo percorso, ma purtroppo i grandi amori a volte non finiscono come ti aspetti, però alla fine c'è sempre stima e rispetto verso di loro, però si è deciso di come un accordo di cambiare strada. Ti spiace perché ci ho messo tanto impegno per arrivare dove siamo arrivati, pensavo di averne ancora tanto da dare, però purtroppo la vita è fatta anche di queste cose. Probabilmente hanno scelto una linea diversa e io non rientravo nel loro progetto, o rientravo nel loro progetto ma generalmente io ancora mi sento in grado di poter essere un uomo importante. Ti hanno cercato tante squadre in provincia, Argentina, Taggia, però alla fine hai scelto il Pietraligure. Sì, perché sinceramente il loro progetto mi ha entusiasmato più degli altri, vedevo veramente tanta voglia di crescere, vedevo un'energia giusta e sono stati bravi a coinvolgermi e a portarmi lì. A Pietra peraltro tornerai a far coppia con Pietro Daddi con cui quest'anno avete sfiorato 50 gol. Sì, 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 ci sarà anche Piero, è una delle cose che comunque mi ha convinto a creare questa coppia di ragazzi un po' cresciuti ma con tanta voglia di fare gol.